Campionato di terza categoria, girone di Caltanissetta, amici di WeSport un cordiale saluto e bentrovati alla finale playoff tra Bonpensiere, Family e Sporting Club Campobello hanno chiuso la regular season rispettivamente al secondo e al terzo posto in semifinale con lo stesso risultato 3-1 hanno eliminato Caltanissetta, Soccer e Amogela. Vediamo allora i padroni di casa con quale 11 partono per questa sfida Bonpensiere che schiera Bufalino, Campanella, Farruggia, Mantione, Arnone, Galante, Cristoforo Ingrao, Tona, Stefano Ingrao, Falcone e Kiparo arbitra la partita il signor Carlo Maria Dolenti sezione di Caltanissetta, ricordiamo. Questa finale vale il salto di categoria, partiamo con il film del primo tempo dopo 10 minuti e Cuni che deve superarsi per deviare in calcio d'angolo la conclusione di Tona al minuto 11 invece. Si blocca il risultato, rimessa laterale di Campanella allontanata sui piedi sbagliati, quelli di Cristoforo Ingrao che fa 1-0 per la Bonpensiere Family. Ancora Arnone a cercare il raddoppio, a trovare solamente la linea di fondo, 25esimo, prima offensiva per lo Sporting Club Campobello con un calcio d'angolo che viene colpito di testa da Cascino. Il tocco di mano di Ingrao in area vale il calcio di rigore, Paci dal dischetto spiazza il portiere e trova il gol dell'1-1. E' come una sveglia però per la Bonpensiere Family perché al minuto 33 arriva un attraversone dalla sinistra di Farruggia, Tona in area, lotta Tona e trova anche lo spunto giusto. Quello che vale il 2-1, nuovamente avanti i padroni di casa che al 41esimo mettono la partita in discesa. Arnone da Cristoforo Ingrao, il pallone non viene toccato dal portiere come dovrebbe, sembrava sulla traiettoria ma si arrende l'estremo difensore Cuni. E allora 3-1 alla fine del primo tempo tra Bonpensiere Family e Sporting Club Campobello. Qualora forse questo il risultato al triplice fischio, la Bonpensiere sarebbe in seconda categoria. Partiamo con il film della ripresa, Kiparo ruba vale in area di rigore, viene atterrato così da Cuni e calcio di rigore il secondo della partita. Questo però può valere davvero tanto per la Bonpensiere Family che trova il gol con lo stesso Kiparo, quello del 4-1, quello che spalanca le porte della seconda categoria alla formazione padrone di casa. Attacca però anche quella ospite con la conclusione da parte di Lococo che spara alto. È un momento per il doppio cambio in casa a Bonpensiere. Tocca a Monella e a Derrick Ingrao per Arnone Campanella. Settantatresimo lancio di Kiparo a sinistra da Tona. Ha tanto spazio Tona, entra in area di rigore. Calcia mandando però in bocca l'estremo difensore Cuni. Minuto 74, calcio di punizione di Paci. Non trova lo specchio della porta. La gara ormai si avvia alla conclusione quando tocca a scalzo. Quando all'ottantacinquesimo Giuseppe Arnone va a rilevare sul terreno di gioco Kiparo. È triplice, fisco e vittoria per la Bonpensiere Family che in finale playoff supera con un netto 4-1. Lo Sporting Club Campobello è conquista. La seconda categoria, amici di WeSport, è tutto allora dalla terza categoria di Caltanissetta. Un cordiale saluto e come sempre, alla prossima.